Matteo hai recuperato la 24 ore? Avevo recuperato, adesso mi sono spaccazzo di nuovo, sempre meglio, però non ce la fanno per queste cose, non sono salite lunghe, però portiamo sempre la bandiera della fondazione, c'è Yad, c'è Max, c'è Ermanno, abbiamo fatto la corsa praticamente insieme, dovrebbe farlo molto meglio, però io sono sempre chiari, però la bandiera è sempre alta, la bandiera è sempre alta, grazie Matteo Lazzotto!